Ok, ciao ragazzi! Allora, oggi mettetevi comodi perché parleremo di uno dei più importanti maestri. Io lo dico sempre quando parlo di designer, ma questo è uno dei più grandi maestri del design italiano e non solo. Stiamo parlando di Ettore Sozzas Junior. È stato importante non solo per il design, ma anche per l'architettura e per l'arte. Si chiama Ettore Sozzas Junior ed è un figlio d'arte, infatti suo padre Ettore Sozzas Senior. È stato un architetto trentino e ha lavorato alla ricostruzione sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Quando parlo di ricostruzione parlo di ricostruzione post bellica di tutte quelle zone che erano state colpite dai bombardamenti o da qualsiasi altro danno causato durante le guerre. Ettore Sozzas Senior è stato un pioniere del razionalismo italiano, mentre la madre Antonia Peintner era una donna austriaca. Ma torniamo al nostro designer. Ettore Sozzas Junior è nato a Innsbruck il 14 settembre del 1917 ed è scomparso a Milano nel 2007 all'età di 90 anni. Ha studiato a Torino, prima presso il liceo scientifico Galileo Ferraris e dopo architettura al Politecnico laureandosi nel 1939. Ancora studente, progetta nel 1938 il Palazzo della Moda che è l'odierno Torino Esposizioni. Dopodiché viene chiamato alle armi in Montenegro dove però verrà catturato rimanendo imprigionato per sei anni. E questo è un punto fondamentale perché condiziona profondamente la vita di Ettore Sozzas Junior. Anche se dopo la fine della prigionia esce e ritorna di nuovo a combattere con la divisione Monterosa. Se non conoscete che cosa sia andate a cercarlo per ricevere ulteriori informazioni rispetto a questa divisione. Ritornato in Italia riprende la sua attività di architetto nel 1947 assieme al padre. Da cui apprende chiaramente tantissime tantissime informazioni e chiaramente si fa esperienza diretta sul campo. Quindi parte da architetto e in un secondo momento apre il suo studio legato al mondo del design, della progettazione. Un anno dopo nel 1948 partecipa al MAC, Movimento di Arte Moderna, con la prima collettiva a Milano. Sozzas non si è mai definito un artista, anzi si arrabbiava proprio quando veniva definito così. Preferiva essere chiamato semplicemente architetto. Anche se nella sua vita è stato tantissime tantissime cose. Tanto è vero che è stato architetto, designer, artista e scrittore. E quando parlo di scrittura parlo di una donna che lo ha influenzato profondamente da questo punto di vista. Stiamo parlando di Fernanda Pivano che nel 1949 diventa sua moglie. Dopo numerosi rinvii proprio perché la donna era sposata, quindi doveva separarsi e poi risposarsi. L'hanno rimandato un po' di volte questo matrimonio, ma questo è un'altra cosa. Questa relazione comunque va avanti dal 49 fino agli anni 70, dove poi si incrina e decidono di separarsi. Ma torniamo alla sua carriera. Il lavoro con il padre si avvicinò moltissimo al settore della progettazione ed in particolare con l'azienda con la quale collaborò per più di 30 anni, e stiamo parlando della Olivetti. Nel 1958 collabora con il padre per la creazione della factory dell'azienda e successivamente viene assunto dalla stessa per occuparsi del design, delle macchine da scrivere, oltre ai sistemi di calcolo come le calcolatrici e i moderni computer. E qui c'è una storia molto interessante da raccontare di come si è entrato all'interno dell'Olivetti all'età di 40 anni. Infatti l'azienda cercava un designer per la nuova sezione di calcoli. Erano praticamente dei computer giganteschi che occupavano intere stanze. Ah, ecco, io che ho un po' di S. Mosha Sozzas, è la cosa più figa del mondo da raccontare. Comunque, a Sozzas viene chiesto di presentare un portfolio e qui si trovò in difficoltà perché aveva sviluppato dei lavori ma molto artigianali e al di fuori del lavoro svolto con il padre. Però ebbe una fortuna incredibile per quel motivo perché il proprietario, Adriano Olivetti, vide dei suoi lavori su una rivista che era Domus. Gio Ponti aveva a cuore il lavoro di Ettore Sozzas, tanto è vero che lo pubblicò sulla sua rivista perché Gio Ponti è stato il fondatore della rivista Domus. E infatti, come dicevo, Adriano Olivetti venne proprio colpito da questi progetti all'interno della rivista. Sozzas si affianca a uno dei più grandi designer della Olivetti, cioè Marcello Nizzoli, di cui prenderà il suo posto pochi anni più tardi a causa del suo ritiro. E qui potete trovare un'intervista incredibile fatta all'archivio Olivetti, dove abbiamo proprio parlato del rapporto tra Sozzas e l'azienda. L'ho trovato all'interno del mio canale YouTube. Qui il designer ha imparato moltissimo per quanto riguarda la progettazione ed è stato affiancato da progettisti interni che hanno trasformato le sue idee in realtà. Si sono legati rapporti estremamente profondi, al punto che Sozzas chiamava uno di questi maestro, proprio perché senza questo ingegnere non sarebbe mai nata la Valentin. A proposito, la Valentin si chiama Valentin, non Valentine. E qui ho proprio la testimonianza diretta dell'archivio Olivetti. Magari ve lo metto quando parliamo proprio della Valentin. Un video dedicato solo a lei. All'interno dell'Olivetti non realizza solo la Valentin. Ci sono pezzi che sono rimasti nella storia, come le calcolatrici Elea 9003, Logos 27, il sistema per ufficio CITESIS, ma il progetto più importante è stato il computer Mainframe Elea del 1959, grazie al quale vinse il compasso d'oro lo stesso anno. Ed è qui che parte la carriera di Ettore Sozzas. Infatti il lavoro con l'azienda Olivetti durò per 30 anni. E in questi 30 anni collaborò con diverse aziende, diventando poi anche art director di Poltronova. Ettore Sozzas è sempre stato un designer che è riuscito ad osservare il mondo un palmo più in là del proprio naso e del naso di chiunque. Tanto è vero che è riuscito a mostrare dei progetti, o magari gli stessi progetti, da punti completamente diversi. Ed è stata questa la grande forza di un designer controverso, perché ha progettato cose estremamente funzionali e qualcosa di estremamente opposto, che vedremo tra poco. Uno chiaramente degli esempi più incredibili è la macchina da scrivere Valentin, che è fatta sicuramente in una maniera estremamente tecnica, ma utilizzando un colore che fosse in controtendenza con il periodo. Tutte macchine da scrivere grigie o con colori simili a quel tono, e lui è uscito con una macchina da scrivere completamente diversa da tutto il resto. Ma continuiamo la nostra storia. Sozas, anticipando i tempi, inizia a proporre il design da un altro punto di vista, introducendo una critica sociale ed aprendo le porte allo stile radicale, nel periodo che corre tra il 1966 e il 1972, creando inoltre due numeri di una rivista, Pianeta Fresco, dedicato all'arte. Rimanendo sempre nel 72, questa è una data storica per il mondo del design italiano, perché viene mostrato il mondo del design al pubblico mondiale, e come? Attraverso una mostra chiamata Italy, The New Domestic Landscape, organizzata all'interno del MoMA di New York. E qui vediamo tantissimi designer, tantissimi progettisti, esplodere proprio in questo periodo. Ettore Sozas arriva con la Olivetti attraverso la macchina da scrivere Valentin. Chiaramente non solo Ettore Sozas è arrivato lì, parliamo anche di altre persone, come ad esempio Achille Castiglioni, Enzo Mari, Pio Manzù, purtroppo era morto da poco, Gio Colombo, altro personaggio scomporso da poco, ma poi da lì in poi il suo stile è esploso, e tanti, tanti, tanti altri. Maturiamo sempre al nostro designer con un sacco di esse all'interno. Le sue sperimentazioni nel mondo dell'arte e del design continuano anche negli anni successivi, al 1972, al punto che nel 76 entra a far parte del gruppo Alchimia. E anche qui, in merito a questo, ho realizzato un video in collaborazione con il fondatore di Alchimia, Alessandro Guerriero, che potete tranquillamente trovare. Sozas presenterà all'interno di questo movimento la seggiolina da pranzo, la lampada da terra svincolo ed il tavolo le strutture tremano, oggetti molto molto particolari ma con delle critiche sociali all'interno. Nel 76, poi all'età di 59 anni, decide di sposarsi con la sua musa, la donna che ha ispirato il suo lavoro, cioè Barbara Radice, che all'epoca aveva 32 anni e con la quale passerà più di 30 della sua vita fino alla scomparsa nel 2007. Nel 1980, insieme ad Aldo Bicic, Matteo Tun, Marco Zanini e Marco Marbelli, fonda lo studio Ettore Sozas Associati. Quindi parliamo di una persona che è stata estremamente attiva e ha puntato su giovani talenti. Cioè, pensiamo solo che Matteo Tun, all'epoca, aveva solo 28 anni. E poi, un'evoluzione successiva al gruppo Alchimia fu quella fondata dallo stesso Sozas nell'82, insieme a moltissimi altri progettisti, giornalisti e aziende. Tra questi abbiamo Andrea Branzi, Michele De Lucchi, Arata Osozaki e molti molti altri architetti di livello internazionale. E il gruppo Memphis è stato un punto di svolta, per quale motivo? Perché hanno messo insieme tre cose fondamentali. I progettisti, le aziende ed i giornalisti. Quindi qualcuno che sappia progettare, qualcuno che sappia finanziare questi progetti, chi abbia una visione più lunga e chi lo sa rappresentare al meglio. Queste tre cose hanno fatto sì che il gruppo Memphis esplodesse a livello internazionale e fece conoscere i progettisti, chiaramente, in tutto il mondo. Ecco, l'incredibile forza di questo gruppo e di Ettore Sozas è stata proprio quella di riuscire ad unire grandissimi nomi del mondo del design e dell'architettura in tutto il mondo. Questo ha fatto sì a creare un gruppo incredibile con progetti incredibili che hanno lasciato il pubblico senza fiato, sia in senso positivo che in senso negativo. I membri del gruppo si presentarono con un centinaio di proposte, i renti immobili e altri oggetti, tutti con linee audaci e molto colorate. L'ispirazione venne dai movimenti come l'art deco, la pop art, il kitsch degli anni 50 e dai temi dei futuristi. Furono chiaramente un pugno in un occhio, progetti che lasciarono estrefatto persino Vico Magistretti. Infatti non erano prodotti razionali, ma avevano forme inconsuete, colori e temi in grado di non abbinarsi tra di loro, né con alcun elemento presente nelle stanze in cui venivano inseriti. Prodotti nati con un tema sociale e con un costo contenuto, almeno alla sua uscita. Il tema era proprio quello di andare contro il razionalismo per mostrare all'utente finale nuovi punti di vista e nuovi stili da poter percorrere. Tra gli oggetti più importanti del designer, all'interno del gruppo abbiamo sicuramente lo specchio ultra fragola e molti molti altri. Il gruppo Memphis poi è scomparso nel 1987 ed è stato ripreso da un altro gruppo e ancora oggi esiste fondamentalmente per vendere mobili. Negli anni successivi al gruppo Memphis sono stati dedicati moltissime mostre dedicate proprio al tema e al lavoro di Ettore Sozzas. Nei suoi ultimi anni di vita poi ha lasciato il mondo della progettazione per dedicarsi più a quello della critica. Ora parliamo un po' della sua filosofia progettuale, come facciamo per tutti i designer. Un conto è guardare che cosa ha fatto, un conto è capire da dove è partito per riuscire a progettare tutto quello che vediamo ancora oggi. Anche perché guardando un po' il catalogo dei suoi oggetti vediamo come passa da cose estremamente razionaliste a esattamente l'opposto. Quindi è giusto capire la strada che ha intrapreso Ettore Sozzas per comprendere a 360 gradi tutto, sia la vita che la filosofia progettuale appunto. Prendiamo ad esempio una macchina da scrivere Valentin. È stata progettata in base alla funzione e al mercato di riferimento. Che cosa significa? Aveva realizzato questa macchina per un pubblico più ampio, per un ceto medio-basso. Quindi i materiali erano di una qualità più bassa rispetto al metallo, infatti erano in ABS. Si poteva scrivere con un unico carattere. Nelle macchine da scrivere classiche si può digitare sia in minuscolo che in maiuscolo. Sono state fatte alcune modifiche tecniche affinché il prodotto si dirigesse verso quel tipo di mercato. Quindi Ettore Sozzas studiava perfettamente la funzione del prodotto, ma anche dove sarebbe stato venduto quel determinato prodotto. La sua concezione di prodotto è largamente influenzata poi dai viaggi compiuti negli anni 50 e 60, ai quali, come in tutti i suoi viaggi, Sozzas non partecipava unicamente come turista, ma con l'intenzione di vivere nuovi luoghi e culture, oltre a ricercare forme con nuovi linguaggi espressivi. Prendiamo ad esempio quello che è successo in India, dove Ettore Sozzas è stato profondamente influenzato, e lo possiamo vedere attraverso alcuni oggetti che ha realizzato, oppure attraverso alcuni oggetti che poi ha riportato a casa, non tanto come souvenir, ma come prodotti ai quali ispirarsi. Pensate che uno dei suoi viaggi, di cui è stato profondamente segnato, è stato il soggiorno a New York nel 1956, durato alcuni mesi, e durante i quali lavorava all'interno dell'ufficio di George Nelson, celebre designer e architetto modernista. A New York ha quindi modo di conoscere la società americana e le sue abitudini consumistiche. Il suo secondo viaggio, di cui ne abbiamo già parlato prima, è del 1961 in India, intrapreso con la sua ex moglie, all'interno della quale vede una cultura completamente diversa, e basata su sensazioni, sui colori, sulla fisicità dei corpi, su tanti tanti aspetti che sono completamente distanti dalla cultura europea. Questo designer in vita ha vinto tre compassi d'oro, uno nel 1959 con il calcolatore di Olivetti Elea 9003, poi ancora nel 1970 con l'addizionatrice elettrica di Olivetti, la Summa 19, e nel 1989 con il servizio di posate Nuovo Milano. Ora vi ho citato pochissimi oggetti, tra cui l'ultrafragola e Valentin, ce ne sono tantissimi altri. Ora, come sempre, andrò a suddividere i prodotti disegnati da Ettore Sozzas in tanti piccoli video, all'interno del quale ci saranno tutti gli approfondimenti del caso. Quindi, se vi interessa, andate oltre questo video, all'interno della playlist di Ettore Sozzas, e troverete tutto quello che riguarda i suoi prodotti. Tutto qui, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video inerenti al mondo del design, e basta. Alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!